Salvatore, intanto grazie per essere venuto qui vicino ai nostri studi, perché noi vogliamo fare chiarezza su questi viaggi dalla Calabria per quanto riguarda l'Ucraina, che trasportano beni di prima necessità e tutto ciò che serve in quella zona. Si riesce ad arrivare? Noi siamo riusciti con un po' di difficoltà, ma siamo riusciti. Abbiamo trovato un po' di difficoltà in Ucraina, in Ungheria abbiamo trovato un po' di difficoltà, che ci hanno fermati, ma poi siamo riusciti a portare i pacchi a destinazione. È difficile arrivare in Ucraina? No, non credo che sia difficile, perché siamo riusciti tranquillamente ad arrivare noi. Un solo viaggio avete fatto? Abbiamo fatto un solo viaggio per adesso, sì. Il mezzo era pieno di roba? Il mezzo era pieno di mangiare e in più roba farmaceutica. Serve tanto in questo momento. Che idea vi siete fatti dell'Ucraina? Allora, le cose sono messe male, come vedete in tv o al telegiornale, le cose non sono belle, le persone sono tutte impaurite, questo è il problema. Le cose sono messe molto male. Si sente il dramma della guerra? Si sente che c'è la paura negli occhi delle persone, sicuramente. Per i bambini è la stessa cosa? Avete notato qualcosa? Ascolta, i bambini sì, sono tutti impauriti, si vede dagli occhi, hai capito? C'è la tristezza. Tutte le persone sono tristi. Ci sarà un modo di tornare da parte vostra in Ucraina per portare altro materiale? Sicuramente ci sarà un altro viaggio che dovremmo partire dalla Mezia e andremo sicuramente di nuovo in Ucraina a portare della roba. Quindi voi partite dalla Mezia? Noi partiamo dalla Mezia con il cambio della protezione civile. Vladimir, tu sei ucraino? Sì, ucraino. Questa guerra come la vedi? È poco male. Hai parenti in Ucraina? Sì, hai parenti, due sorelle. Ma tu vivi in Italia? Sì, io vivo in Italia già da assai tempo. Hai famiglia qua in Italia? Sì, famiglia in Italia hai. Andare in Ucraina con il mezzo, con i prodotti che servono per loro, è stato difficile per te? Non è tanto difficile, è solo un problema che noi abbiamo trovato, Ungheria, che ha portato sul paese e ha fatto molta, che è stato sopra carico. Era sopra carico e vi hanno fatto una multa in Ungheria? Sì, ho fatto una multa a 600 euro, Ungheria. Noi ha detto che portavamo roba militari, però loro non volevo sapere niente. Quindi diciamo che la situazione in Ucraina è sempre molto difficile? Sì, molto difficile. Finirà questa guerra? Speriamo che finirà. Tu hai bambini piccoli? No, io ho due figli grandi già. Quindi, però, immagino che la situazione fa male a tutti. Sì. Vuoi tornare tu in Ucraina? Sì, vuoi tornare. Le città sono distrutte? No, dove abito io no, altre città sì. Insomma, c'è bisogno di pace? Sì, c'è bisogno di pace. Sì, c'è bisogno di pace.